Nei centri comunali raccolte i cittadini portano i loro rifiuti differenziati, compresi gli ingombranti. Nel comune di Erice, dove la raccolta differenziata ha superato il 70%, è operativo il CCR di Milo. La differenziata continua dunque a crescere, ma di pari passo sembrano aumentare gli abbandoni di rifiuti per strada e la pulizia straordinaria, compresa di bonifica di queste aree, al comune di Erice costa più di 100.000 euro l'anno. La raccolta differenziata va bene, potrebbe andare ancora meglio, siamo su una percentuale del 71,40, però sicuramente può andare meglio. Abbiamo purtroppo parecchi abbandoni sul territorio, le bonifiche sono previste come da contratto con Econordo e a volte nelle bonifiche insistono del materiale speciale, quindi dobbiamo intervenire con una ditta che raccoglie questo materiale e ci viene a costare all'incirca l'anno intorno alle 100.000 euro. A volte i cittadini, modello che fanno pure la differenziata, si rivolgono a privati nello sgombero di magazzini, di case e quant'altro. Questi fanno sì di lasciarli in qualsiasi punto del territorio e a volte ci vanno di mezzo anche chi dà l'incarico a questi dello sgombero di magazzini e quant'altro. Quindi io faccio un appello a tutti quelli che devono sgomberare di portarlo direttamente loro al CCR. Questo è fondamentale a non vedere abbandone sul territorio. E per il conferimento nel CCR ci sono precise regole e modalità da rispettare. Ci sono delle giornate calendarizzate per il conferimento. Il cittadino deve venire lui personalmente con l'ultima tari pagata. Si possono portare da 3 a 10 pezzi. I costi aggiuntivi per togliere la spazzatura lasciata per strada, come ovvio, vanno a incidere sulle tariffe dell'Atari, per chi la paga, visto che nel Comune di Erice l'evasione è attorno al 29%. Un cittadino su 3 dunque non paga la tassa dei rifiuti. Ma non va meglio negli altri comuni con numeri che possono essere ancora più alti. Tra i nodi dolenti c'è poi quello del trasporto e del conferimento nelle discariche, spesso a molti chilometri di distanza. Spese aggiuntive che finiscono con l'incidere sulla Tari a carico dei cittadini. Credo al mese di marzo la discarica di Borrania della Trapani Servizi ha chiuso per rispetto di alcuni coefficienti. Questa chiusura di questa discarica a noi ci viene a costare 400 euro a tonnellata e sono tantissimi. È aumentato notevolmente il conferimento che conferiamo a Lentini, quindi nella provincia di Catania. Dico, noi di RSU purtroppo ancora ne facciamo tanto e questo RSU fa esorbitare di tanto il conferimento, ripeto, perché viene conferito a Catania. In tutto ciò si cercano soluzioni per contrastare gli abbandoni che in un territorio come quello di Erice avvengono anche in piena montagna. Intanto abbiamo delle telecamere mobili messe sul territorio, altre ne verranno messe anche fisse, messe nei punti strategici. A breve vorremmo fare partire un progetto in aggiuntiva a queste telecamere mobili che c'è la Polizia Municipale, con altre telecamere mobili per ampliare il controllo sul territorio. C'era anche previsto due droni, pattugliamento, ripeto, stiamo potenziando il servizio del controllo del territorio perché così non è possibile andare, bisogna vigilare ancora di più.